Sono stati proclamati vincitori nazionali del Talent Factor for Refresco, gli studenti dell'ITI Da Vinci di Prato alla Peligna, per aver presentato una soluzione sostenibile, replicabile, basata sul principio di ottimizzazione nell'ambito della produzione. Una soluzione aziendale presentata dai ragazzi al plan della Refresco di Sulmona all'interno di un progetto che ha portato il Da Vinci, insieme ad altri cinque istituti, alle finali del Contes che si sono svolte ieri a Milano, tra i progetti vincitori dei vari stabilimenti d'Italia. Il lavoro dei ragazzi dell'ITI, realizzato attraverso la ideazione e progettazione di strutture, dettagli tecnici, anche con l'utilizzo della stampa 3D, ha conquistato la giuria che agli studenti Peligni ha consegnato anche il premio per la migliore presentazione. Al Contest finale nazionale svoltosi presso la serie di Adecco Italia, erano presenti i referenti del plan di Sulmona, l'ingegnere Leonardo Di Vito, Daniele Fabrizi e quelli della filiale Adecco di Sulmona, Roberto Dicenzo e Luciana Vella. L'ITI da Vinci ringrazia i ragazzi per tutto quello che hanno saputo creare e farci vivere, i docenti referenti del progetto, Rosselli, Di Nino e Rucci e tutti i docenti coordinatori.